e bella a tutti ragazzi dal vostro urgent allora oggi vi spiego come fare ad andare allo studio di distruzione di dottor dre allora dopo che avete finito tutte le missioni ragazzi ma tutte le missioni del contratto di dottor dre a caso vi arriva appunto una chiamata un messaggio a dottor dre che mi dice che sta facendo qualcosa nel suo studio se potete andare subito da lui allora lo studio si trova esattamente qua ragazzi in centro e quando vi arriva questo messaggio vedete di andarci subito perché altrimenti la sessione di gestione finisce quindi ve la perdete lo studio dentro c'è anche un piccolo negozietto di vestiti firmati dello studio stesso voi dovete andare qui al centro dove c'è esattamente la sala di registrazione allora all'inizio vedete appunto dottor dre che sta lavorando ma dopo un po arriverà anche il suo cantante questo qua e si metteranno a cantare un pezzo insieme sia lui che dottor dre adesso ragazzi con questo video non sentite la musica perché ho dovuto togliere per problemi di copyright comunque si mettono a cantare insieme e voi potete ammirarli da vicino la cosa è abbastanza figa dai ci può stare è anche originale una specie di easter egg secondo me che hanno inserito in questo studio poi ci potete tornare più di una volta ovviamente e anche dottor dre vi chiamerà più di una volta per farvi sentire si vede altri pezzi comunque se andate questa settimana sbloccate e anche questa fantastica felpa dello studio bene ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like iscrivetevi al canale alla pagina facebook su twitch e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti balla al vostro urgent